Che cosa succede se per una popolazione che sfiora i 95.000 abitanti ci sono a disposizione soltanto uno o due medici in grado di intervenire per le emergenze? Succede quello che si sta verificando a Lecce, ossia che per garantire il servizio di emergenza urgenza venga chiamata in causa anche la guardia medica. Ma la guardia medica può sopperire a questa mancanza? Di fatto no, né su carta né in concreto, ma tant'è. Tanto è vero che spesso arrivano ambulanze prive di personale medico, medico abbiamo già detto che non ce ne sono, e anche paramedico, per cui poi viene chiamato il medico di continua assistenziale ad andare poi a medicalizzare le ambulanze per somministrare una terapia o fare altro quando tutto questo dovrebbe essere svolto dal personale all'interno delle ambulanze. Il punto è che la delusione, la rabbia e l'esasperazione dei pazienti si ripercuote anche sui camici bianchi, che questa situazione la subiscono esattamente come gli utenti, senza neanche essere autorizzati a farlo e senza alcuna tutela, non avendo i giusti mezzi a disposizione e non essendo contrattualizzati ma pagati ad ore. A questo aggiungiamo anche i problemi che quotidianamente gli operatori del continuo di usarsi necessario devono affrontare. Basta guardare alla fila di gente che alle 8 di sera, ancora prima che si apra, che entri in funzione il servizio, sono già fuori ad aspettare, per non parlare delle richieste di interventi per codici, quindi situazioni che non sono assolutamente di competenza del medico di continua assistenziale, ma che rivestono una certa importanza o gravità per cui dovrebbero essere gestiti da altri. Così non si può andare avanti, conclude il dottor Giugno a nome dei colleghi. La fuga dalla professione di fatto si deve principalmente a questo. Io vorrei soltanto invitare chi di dovere a intervenire perché la situazione sta diventando veramente insostenibile.